La casa comunale di Canalonga si rifà in look. Sono stati assegnati per l'anno 2019 ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. La somma che sarà destinata al comune cilentano è di 40.000 euro, perché con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, come stabilito dal decreto del Ministero dell'Interno. In ragione di ciò, entro il 15 del mese di maggio 2019, il comune di Canalonga, retto dal sindaco Carmine Laurito, dovrà iniziare l'esecuzione dei lavori per la sua messa in sicurezza.